È come se fosse sopravvenuto un desiderio del togliere, del rendere il quadro sempre più puro. Con questo azzurro è diventato appunto il segno suo più perspicuo. Questo poi è il quadro. Varefazione, cioè un levato. Varefazione. L'azzurro, l'azzurro, l'azzurro di cui parlava Mallarmé. Riproduce la consistenza dell'animo dell'uomo moderno di fronte alla natura, di fronte all'infinito. Mallarmé ne parlava come fosse un naufragio. In realtà l'orizzonte non ha corpo, voglio dire, è una cosa infinita che cambia, cambia continuamente, ma è fisicamente inesistente. È un luogo dove il nostro sguardo è portato, come luogo eterno. È un bisogno, non ti saprei spiegare perché. È una pittura che riproduce la natura, sì, ma la condizione dell'interiorità. Anche il ritorno in Sicilia è certamente legato a questa idea di una luce, di una solarità, che forse è quello che a me interessa.